Grave incidente stradale questa mattina a lungo via del Santo a Limena. Una donna al volante della sua macchina ha perso il controllo del veicolo che è uscito di strada ribaltandosi su un fianco immediato l'intervento dei medici del SUEM e dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la macchina GPL. La conducente ferita è stata trasportata in ospedale a Padova per tutte le cure. Dopo circa un'ora la situazione del traffico è tornata alla normalità.